Bentornati nella mia libreria! Oggi siamo qui per un nuovo libro di Jane Rose Caruso. Oggi siamo qui perché vi voglio parlare del quartiere dei ciliegi in fiore. In realtà, sono indecisa se il mio preferito sia questo o la cioccolateria in Muffin Street, perché lì si vuole in India, ma qui siamo in Giappone. Guardate, oltre al fatto che sia la copertina rigida che morbida ha una estetic pazzesca, all'interno però c'è una sorpresa, perché a parte, vabbè io amo il logo di Jane Rose, è troppo carino, ma ad ogni inizio capitolo, anche nella prefazione, c'è un'immagine a colori. È stupenda! Ora vi faccio vedere qualcosa. Per darvi l'idea di cosa andate a comprare. E ovviamente ogni inizio capitolo ci dà l'idea di che cosa leggeremo nel capitolo, che poi capirete dopo, dopo averlo letto ovviamente. Bellissimo! Allora, ci tengo a dire che questa è una storia giapponese in pieno stile narrativo giapponese, però, siccome lo stile giapponese è sempre estremamente triste, devo dire che Jane Rose riesce a combinare la malinconia giapponese, perché c'è tutta, ma con la dolcezza e l'ottimismo italiano. ecco, le parole giuste. Quindi, ne viene fuori una storia molto molto carina, che non ci lascia con quella pesantezza, come tutte le storie giapponesi, che ti devono per forza far riflettere la vita. Qui hai la riflessione della vita, ma anche ti riusci un sospiro di sollievo, perché dici, cavolo, ma allora è bella, non è solo tristezza. E qui abbiamo la signora Tsukimio. Chi è la signora Tsukimio? È una signora che si è formata da sola, perché orfana da bimba, viene prelevata e presa da una famiglia in adozione, che però, nonostante non siano persone cattive, comunque la mettono a lavoro nella loro locanda, diciamo, nel loro ristorante, e non la trattano da principessa, diciamo, come tutte le figlie vorrebbero essere trattate, la trattano da dipendente. Non gli fanno mancare niente, ma neanche gli danno tanto, nel senso che ha tutti i beni di prima necessità, ma non ha una cosa per farla sentire amata e lodata dai genitori. Lei è lì, lavora, fa la sua vita, e alla fine si sposa con una persona che la riesce a colpire e a farla sentire unica e speciale. Da quando sono morti i suoi genitori adottivi, la locanda, insomma, è rimasta spoglia, è rimasta sola, perché la signora non si sente più di passare del tempo lì, le fa male, le ha ricordi brutti. Quindi lei fa tutt'altro nella vita. Ora, questo libro mi piace perché si apre quasi tutto il libro in una giornata specifica. E poco prima del compleanno della signora Atsuki, lei in una giornata fa tante attività che coinvolgono l'attività di suo marito, che è creare trenini, locomotive, fa tipo dei diorama, delle cose, crea comunque questi trenini, diciamo. Si combina con la visita di altre persone. Ad esempio, va da un signore che vende dei dolcetti e questo signore gli dà una locomotiva sua da dare al suo marito. Gli dice, questo dà al tuo marito che me l'ha chiesta tempo fa. Oppure, passando di strada, va dalla sua migliore amica, va a farsi una chiacchiera molto costruttiva con la sua migliore amica, che è più una sorella, e vedono, di rimpetto alla casa di questa signora, poi ti descrive queste case tipiche giapponesi, cioè, davvero ha fatto un lavoro ottimo, Jane Rose. Ti descrive che lì di fronte ci sono una bambina e un nonno e questa bambina rompe un vaso, però ti dà il valore nello spiegarti cosa è successo e come si può rimediare. Oppure va a comprare della lana perché deve fare un regalino a un'amica che è appena partorito più giovane di lei. Parla anche di figli, perché lei ha avuto dei figli, però la sua migliore amica non è riuscita ad avere dei figli, quindi ti parla anche del fatto di quando non riesce ad avere un bambino, il tatto e tutto il resto. Il fatto che questa donna giovane abbia appena partorito, ma sta vivendo delle difficoltà. la vita di Tsuki si ruota attorno a tutte queste figure che lei in una passeggiata incontra per strada. Vuoi perché va a un negozio? Vuoi perché è per strada a vendere qualcosa questa persona? Vuoi perché passa nella via dell'amica perché è di strada e la va un attimo a salutare? Vuoi che vede un attimo la scena di quel non e nipote? Tutto si intreccia perché quello è un quartiere, è un quartiere dove loro vivono da tanto e si conoscono tutti. Ti fa vedere che questa donna è molto altruista, riflette sulla sua vita e su quella degli altri e alla fine riceverà una grandissima e bellissima sorpresa. Il giorno della fioritura dei Sakura è il giorno del suo compleanno che per lei è un qualcosa di speciale e l'unico giorno all'anno che si concede di essere felice. È una storia agrodolce, ma molto molto dolce più che agre e ve la straconsiglio. Voi sapete, a me piace tantissimo Genros Caruso, cioè ormai ho un rapporto più personale che lavorativo con lei perché è una persona che mi ha colpito fin da subito, lei, Chiara Vincenzi, Anche Tamara Fumagalli sono persone che io ho conosciuto per le collaborazioni ma che poi sono nate vere e proprie amicizie virtuali. Rosa invece l'ho conosciuta perché vendeva il suo bellissimo libro Il Natale degli Agrifogli insieme a una cover per i libri sempre messa nella box e creata da un'altra persona, quindi sempre cose di artigianato, cose che piacciono a me e ho sentito che dovevo acquistare quel libro nonostante fosse una storia per bimbi e non me ne sono pentita, vi ho fatto anche un video datelo a cercare perché merita e quindi per me è diventata speciale da lì e c'è stata subito una connessione. Tant'è vero che adesso i suoi libri appena mi arrivano li divoro perché li amo e prima o poi approfondirò anche tutte le altre storie perché voglio avere tutta la bibliografia di Jane Rose perché adoro il suo modo di scrivere poi i suoi libri hanno le covertine, le cover più belle del mondo cioè sono veramente bellissime le cover di Jane Rose non le ho mai viste in nessun altro e con questo vi dico leggete i suoi romanzi, soprattutto questo è bellissimo se vi piace il Giappone questo lo adorerete noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video però prima vi ricordo di seguire me e Jane Rose Garoso e vi aspetto sempre qui per una prossima lettura speriamo bella quanto questo ciao ragazzi ciao